Please approach SCP-173 for testing Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Roblox Tinkon Oggi andiamo a vedere quest'altra mappa Tinkon Chiamata Prison Tinkon Sviluppata sempre dal team Fatwell Games Infatti questo team ha fatto due giochi E questo è il secondo che andiamo a vedere Andiamo ad aprire il gioco Oggi sto utilizzando di nuovo il Joypad Dopo non l'ho utilizzato per un paio di volte Aspettiamo che carica Dovrebbe funzionare perché funzionava fino a qualche giorno fa Facciamo una cosa Forse se si è buggato Direi perché non trova nessun giocatore Vediamo se adesso parte C'è una cosa Se appena il gioco carica potrebbe anche piegarci un poco Poi riprendo la registrazione Ok sembra che stia caricando Ok è caricato dopo un'eternità Va bene Sì è stato molto lento Su Xbox One caricava più veloce Per qualche ragione ci ha impiegato un po' Forse Perché ho qualche problema di connessione Ma sembra che va di bene Allora questa modalità è diversa Come vedete non ho nulla ma ho tutto finito Adesso lo tocco qua E dovrebbe caricare Se carica Bisogna ovviamente anche altri giocatori Se carica Ok sta caricando la mappa Ok sembra che abbia caricato tutto Allora sì Ah comunque ecco Ecco vi spiego perché comunque è laggato Perché praticamente questa modalità Anche sul console mi ha dato problemi Infatti diciamo sul console funziona Però mi crashava un paio di volte Infatti non so perché i sgruppatori Quello dell'aeroporto l'hanno fatto bene Questo invece no Allora come sempre comunque Quando cominciate questa modalità Cominciate da questa parte di qua Avete questa parte qua iniziale Fino a espandere tutto Premessa che in questa modalità Come quella dell'aeroporto Ci sono più giocatori Qua si è buggato tutto Non so perché ma ci sono giocatori? Sì Allora In quella dell'aeroporto Per raggiungere le altre isole Dovete prendere o una barca O uno degli aerei che vi ho fatto vedere E praticamente viaggiando Potete cercare le isole degli altri giocatori Qui è diverso perché le zone degli altri giocatori Sono molto vicine In tutto ci possono essere Se non erro Sei giocatori Quindi uno di qua Uno di là E altri tre dall'altra parte Se non erro Questa è tutta la mia struttura terminata E il tempo in cui ci impiegate Per fare questa modalità Sono circa due giorni Se non erro O uno o due giorni Comunque Penso che in un paio di ore Dovreste finire tutto Adesso ti faccio vedere un po' Tutto il tour Veloce Questo Questo rumore Non capisco se sono le... Sento il rumore tipo strano Forse sono le cuffie O le cuffie la modalità Va bene Va bene Dicevo E' praticamente Questa è la parte Dove vanno ovviamente i carcerati C'è la parte del basket Questa è una ragione Fa questo rumore Quando uso il joypad Non so perché Non lo so Strano E allora Spero che non si senta in video Perché sentivo Qua si fuma quasi metallico E allora Qua praticamente E' me scomparsa Non so Ah ecco qua Adesso dovrebbe spanare Qua c'è la macchina Della svuoto Questa costa Mi fa 500 mila dollari Che poi guadagnate Praticamente qua Queste sono tutte Le cose per guadagnare i soldi Questa è la zona Praticamente sempre sbloccata Pian piano Dove si possono Incontrare le persone Per fare le visite Qui in tre Ci dovrebbe essere Una sorta di sala di controllo In questa modalità Vi potete anche killare Rispetto a quale Infatti qua ci sono le armi Qua c'è un fucile Di sotto ci sono anche D'altra delle armi In questo modo Dovrebbe esserci una pistola E il manganello No Non il manganello Scusate E' una spada Mi sembra A impatto Poi non so Ok adesso Saremo a primo piano Ovviamente in questa modalità C'è una cosa Che non dovete fare Perché se no Morirete tantissime volte Come mi è successo Questa è la mensa Dove ovviamente Mangiano i carcerati Poi di qua abbiamo Ovviamente questo Ve l'ho fatto vedere Ah Vediamo se funziona Il pulsante Vi faccio vedere Un pochettino L'allarma Ecco Diciamo che questa modalità È stata fatta Abbastanza bene Adesso saliamo Al Secondo piano E qui abbiamo Una materialatrice Un'altra materialatrice Più un fucile Che non so che fucile sia Qui potete Industrare anche il giubbotto Se volete Lo equipaggiate Queste sono le celle Dei carcerati Che potete comunque Aprirle Queste di qua Non c'è pericolo Potete aprirle Per farle uscire Comunque Adesso le faccio uscire Tutti Queste venite sempre Pian piano L'ho andata facendo Questa dovrebbe essere Una sorta di zona Di solleamento Oppure forse Una zona in più Comunque Saliamo adesso Al terzo piano E qui c'è Lancia razzi Più la minigun Qua praticamente Dovrebbe essere Una sorta di lavanderia E questa è la zona Di massima sicurezza Ecco qui C'è una cosa importante Non aprite Queste celle Infatti non lo vedete Però in teoria Ecco Vedete questo braccio Questi di qua Sono carcerati Che vi attacco Infatti sapete le celle Questi vi ammaziano Senza fine E resiste anche Abbastanza bene ai colpi Infatti Sparavo e non volevano morire La cosa figa Anche di questa mappa Sono queste due di qua Quella della Luna Non l'ho mai provata Adesso la proviamo insieme Non sento nulla Non funziona Questa di SCP Comunque deve funzionare Ecco Avete sentito le urla Questa comunque È una guarda della SCP Funse qua della Luna Invece non funzionava Saliamo adesso All'ultimo piano Qui c'è una sorta di statua Altre armi ovviamente Questa è un'altra arma Pure per sparare Chi si avvicina E a parte ciò Qua c'è l'elicottero L'elicottero Purtroppo non funziona Ci ho provato Ma non funzionava Su Xbox non funzionava Vediamo se Su console Funziona Vediamo Aspetta un attimo Ok Per accendere Si è acceso No Allora Su Xbox Neanche si accendeva Quindi già qualcosa Se si accende No No Non parte Non so Non so Perché l'elicottero È buggato E non funziona Gli sviluppatori Non so Se aggiungeranno Ancora questa mappa Ma penso di no Perché comunque Trattandosi di un carcere Non saprei cosa Potrebbero aggiungere Potrebbero Magari Ampliare la Cioè voglio dire La struttura Solo quello Potrebbero fare Perché diciamo Già c'è un po' Tutto in questa mappa E niente Quindi vi riassumo Che per fare questa mappa Tutta quanta Ci impiegherete Massimo due giorni E andiamo fuori Perché si sentono le urla Allora Potete impiegherci Massimo due giorni Se siete giocati Abbastanza ore In un giorno Anche la finite Questa modalità Potete giocare Anche con altri giocatori Vicini E potete anche Killarvi E niente Se il video vi è piaciuto Mi dite la scena Mi piace Iscrivetevi al canale Per questo video è tutto E noi ci vediamo Alla prossima Ciao